Bentornati in questo nuovo video, io sono Kiko Z e oggi vi parlerò delle carte promozionali annunciate fino ad ora e come ottenerle. La prima carta di cui vi parlerò oggi è quella di Monkey D. Luffy, contenuta all'interno della rivista Shonen V-Jump, uscita il 21 luglio 2022. La rivista era possibile preordinarla sul sito di Amazon in versione giapponese, ma attualmente non è più possibile perché le scorte sono tutte finite. L'unico modo per acquistare la rivista è tramite le fumetterie che si occupano della vendita di prodotti giapponesi oppure i diversi siti internet che troviamo online. Vediamo insieme la carta. La carta sarà di colore rosso e avrà 3000 di potenza e richiederà solo 3 don per essere evocata. Sarà un counter di 2000 e il suo effetto don per 2 permetterà nel suo turno di guadagnare 2000 di potenza. La carta oltre ad essere molto forte è molto bella esteticamente e presenta un'immagine molto accattivante. Il 4 agosto uscirà la rivista Psycho Jump e all'interno troveremo 4 carte promozionali di One Piece Card Game. La rivista era possibile preordinarla sul sito di Amazon Giappone, ma purtroppo dopo pochissime ore dall'inizio dei preorder la rivista è andata subito sold out. Quindi l'unico modo per acquistare questa rivista è tramite le fumetterie che si occupano della vendita di prodotti giapponesi oppure tramite i vari siti online che forniscono merce dal Giappone. Queste saranno le 4 carte che troveremo all'interno della rivista Psycho Jump e vediamole insieme. Come vedete le carte sono molto belle, hanno degli artwork veramente molto molto belli, ma leggiamo insieme le loro caratteristiche. La carta di Luffy come sempre sarà di colore rosso, avrà 5000 di potenza e 4 don per essere evocata. Sarà un counter più 1000 e il suo effetto don per 1 permette a questa carta di non essere mandata a KO da un personaggio con attributo Striker, che sia leader o personaggio. L'artwork di questa carta è molto bella, vediamo i colori molto scuri e in sottofondo vediamo un drago dorato che sarebbe l'unica parte chiara della carta. Passiamo adesso alla seconda carta. Troviamo Yamato, una carta verde con 5000 di potenza, 3 don per essere evocata. Il suo active main permette a questa carta, mettendola in modalità spossata, di scegliere una carta del tuo opponente dal costo 2 inferiore e metterla in modalità spossata. Un effetto molto utile se il nostro avversario ha dei blocker in campo e ci permette così di poterli attaccare con un altro personaggio. Poi abbiamo Trafalgar Low, 7000 di potenza, 6 don per essere evocato. Il suo effetto on play, se il tuo avversario ha 6 o più carte nella tua mano, puoi aggiungere una carta delle sue vite alla sua mano. Beh, l'effetto di questa carta devo dire che è molto molto forte perché ti permette di far perdere una vita all'avversario e in più attaccare con gli altri personaggi che hai già in campo. Ha 7000 di potenza quindi è molto molto forte di attacco e di difesa. Come sempre le carte di Trafalgar Low sono molto belle. E la sua mano sinistra non manca mai in primo piano. Poi abbiamo quella di Kaido, 9000 di potenza, 8 don per essere evocata. A fine turno puoi aggiungere una carta dal tuo don deck in modalità attiva. Questo effetto è tipico del mazzo di Kaido che ci permette appunto di avere sempre più donne in campo. L'artwork di questa carta è veramente molto bello. I colori si abbinano perfettamente fra di loro e il disegno lascia senza parole. Veramente un bellissimo pezzo da collezione. Non si sa ancora se queste carte verranno ristampate in inglese, speriamo proprio di sì, così potremmo avere queste chicche anche nel nostro deck. Per la promozione di questo gioco possiamo vedere dal sito di One Piece Card Game che in Giappone si stanno organizzando una miriade di eventi ufficiali gratuiti. Uno è il Tour Nazionale di Insegnamento, un evento che dura tutto il mese di luglio in più di 100 negozi sparsi per tutto il paese. A tutti i partecipanti verrà regalato un promo pack bianco dove all'interno troveremo i 4 leader degli starter deck in versione personaggio. In più troveremo una carta evento di colore rosso. In altri tipi di eventi verranno regalati a tutti i giocatori anche un playmat e una versione speciale della carta donna con la scritta dorata. Il primo torneo ufficiale si chiamerà Flagship Battle e si svolgerà sempre in Giappone nel mese di agosto. Anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita e tutti i giocatori avranno in regalo un promo pack 2022 insieme alla versione alternativa del blocker Tony Tony Chopper. Come potete vedere la carta di Tony Tony Chopper è davvero molto bella, ha un'illustrazione veramente molto figa, curata nei minimi dettagli. È la stessa carta che troveremo negli starter deck di Luffy ma con una versione molto ma molto bella. Attenzione perché i vincitori riceveranno una copia di una carta davvero esclusiva, la versione alternativa del leader Luffy, ma di questo ve ne parlerò più avanti nel video. Passiamo adesso alle carte più ricercate perché saranno le più difficili a ottenere in quanto verranno date ai vincitori del campionato ufficiale di One Piece Card Game. I top 32 riceveranno questa bellissima carta di Usop in versione alternativa. La carta avrà 3000 di potenza, 2 don per essere evocati e sarà un counter 2000. Il suo effetto don per 1 permette al giocatore di pescare una carta ogni volta che il suo avversario attiva un evento. Come vedete avrà lo stampo del Championship One Piece, una carta veramente molto bella e sono sicuro che sarà ricercatissima da tutti i collezionisti. I top 16 riceveranno una carta che a parer mio sarà la più bella di tutte quelle ottenibili nel campionato ufficiale. Si tratta della carta di Zoro, una versione alternativa dello stesso Zoro che troviamo nello starter deck rosso di Luffy. La carta avrà 5000 di potenza, richiederà 3 don e il suo effetto don per 1 permette a questa carta di guadagnare 1000 di potenza. Anche questa avrà lo stampo del Championship One Piece e la sua illustrazione è davvero molto molto bella, molto accattivante. Un'immagine disegnata nei minimi dettagli. Sono sicuro che per portarsi a casa questa carta nel mercato secondario bisognerà spendere abbastanza soldi. Per adesso non si sa ancora nulla, però speriamo di trovarla a prezzi ragionevoli. Arriviamo infine al pezzo forte, il più esclusivo di tutte le carte promo viste fino ad ora. Il vincitore e il secondo classificato del primo torneo riceveranno in premio questa bellissima versione alternativa del leader Luffy, rispettivamente con numero di seriale 001 e 002. Come potete vedere la carta sarà numerata e ne produrranno solamente 500 copie. La stessa carta verrà data ai vincitori del torneo Flagship Battle di agosto. Non si sa ancora se in futuro faranno anche dei tornei nel resto del mondo e sarà possibile ottenere questa carta ma in versione inglese. Durante questo campionato soltanto per i giocatori sarà possibile acquistare due di questi box contenitori con all'interno un plymat e una carta promozionale di Luffy. Come vedete la carta avrà un'illustrazione molto bella, per ora questi prodotti si potranno acquistare solamente partecipando al festival e non si sa se in futuro verranno venduti o rilasciati anche per il resto del mondo. A settembre ci sarà un torneo in cui sarà facilissimo partecipare in Italia e nel resto del mondo. L'evento si chiamerà Super Pre-Release e si svolgerà dal 30 settembre fino al 6 ottobre in tutti i negozi che cercano all'iniziativa. I vincitori di questi tornei riceveranno in premio questa bellissima carta di Luffy con lo stampo dorato Super Pre-Release, altra versione alternativa della promo P-001. A tutti gli altri verrà regalata la stessa carta ma senza la scritta winner. Per celebrare il 25esimo anniversario di One Piece in Giappone si terrà un evento davvero speciale. Per tutti i partecipanti di questo evento sarà possibile acquistare dei prodotti davvero unici. Sul profilo ufficiale possiamo trovare tre di questi prodotti dedicati a One Piece Card Game. Vediamoli insieme. Il primo sarà un box contenitore dove sarà possibile contenere le nostre carte. Il secondo è un bellissimo plymat con il logo dorato del 25esimo anniversario e tutta la ciurma di Luffy in primo piano. Un'immagine molto bella e un plymat davvero unico. Il pezzo forte sarà questo album che conterrà al suo interno 10 carte con i personaggi della ciurma di Luffy. Le carte avranno un'illustrazione alternativa e saranno delle ristampe, degli starter deck e del primo set uscito in Giappone il mese di luglio. Molto probabilmente le carte verranno ristampate anche in inglese ma per adesso non si ha ancora nessuna notizia riguardo. Vi lascio in descrizione il link con la lista di tutti i negozi che aderiranno all'evento Super Pre-Release e se volete tenervi sempre aggiornati vi invito a iscrivervi al mio canale Telegram dove pubblicheremo e commenteremo tutte le novità riguardo a One Piece Card Game. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like ed iscrivervi al canale. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!